Noi riteniamo che la Regione debba istituire una app in modo tale che tutti i pellegrini che arrivano a Roma, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, riescano a capire immediatamente la posizione strategica dell'Abruzzo, dei 22 siti religiosi, dei tre santuari che abbiamo qui, che sono importanti, che si trovano all'interno del quadriatro della Mesiricordia delle quattro regioni Lazio, Umbria, Marche e Puglia e capire poi quale tipo di tour esperienziale possa essere effettuato. Noi faremo la nostra parte, siamo d'accordo con l'istituzione del comitato scientifico, ma deve essere un comitato tecnico scientifico dove ci siano istituzioni pubbliche e private e ognuno faccia la propria parte, noi faremo la nostra parte con le nostre imprese. Ma io faccio un esempio, noi abbiamo veramente tanti percorsi, tante bellezze, anche delle informazioni che su internet sono ben fatte, ma un turista che viene dal Sud America, sbarca a Fiumicino, come fa a conoscerle? Se la regione non istituisce per esempio una app con il wifi, appunto perché la regione Abruzzo strategicamente è importante, non permette di collegare automaticamente queste persone appena arrivano nell'aeroporto, nella stazione ferroviaria? Grazie. Grazie.